Campo pesante, piove, anzi nevica e avrei a febbre. Il fantagioco è stato compilato. Non ci resta che attendere i risultati a fine giornata. Un caffè nell'attesa. Molto lungo, se non è di troppo disturbo. I giochi di Fantasy Sport si sono evoluti. Con Fantasy Team l'emozione la vivi minuto per minuto. Iscriviti subito. Prima giochi, prima puoi vincere. Fantasy Team, Play e Fan, Wii. E noi cosa aspettiamo? Il prossimo secolo?